Ricerca e innovazione in Italia, perché secondo lei siamo a un punto così critico? Siamo a questo punto per un complesso di cause naturalmente, da una parte perché il mondo dell'impresa in Italia sia per le sue dimensioni più piccole e sia anche per una storica sottovalutazione investe pochissimo in ricerca e innovazione, in secondo luogo per i problemi drammatici che abbiamo nel nostro sistema universitario e infine direi forse più in generale per una certa sottovalutazione perfino culturale nelle nostre classi dirigenti, pensiamo ad esempio alla fatica che si fa in Italia a sostenere le start up innovative nel campo delle nuove tecnologie, quindi varie cause che mi auguro vengano prese di petto anche dalla politica e dal nuovo governo. Quindi guardando avanti, nuovo governo da pochi giorni, oggi siamo agli stati generali dell'innovazione qui a Roma e il sottotitolo di queste due giornate è proprio metti in agenda il futuro del paese, lei cosa metterebbe in agenda? Innanzitutto mi auguro da parte del governo che si faccia almeno un gesto simbolico che potrebbe essere quello di affidare a qualcuno una delega sull'agenda digitale, adesso non dico di fare come negli Stati Uniti che 15 anni fa l'affidarono al vicepresidente degli Stati Uniti, però almeno un sottosegretario che si occupi di agenda digitale sarebbe un bel segnale, perché poi se tutto viene lasciato solo alla buona volontà e alla competenza di singoli ministri, chi se ne occupa nella pubblica amministrazione, chi nelle telecomunicazioni, chi nell'università, chi nella cultura, secondo me non si... sono fiducioso perché spero che sia la volta buona che un governo dia a questo tema maggiore priorità e minore settorialità.